Fai a dire i soldi, dovete pagare! E fanno comodo un po' di soldini in più. E' il colmo. La querela per danno d'immagine resta. Non è ancora partita per la verità. Non potete approfittare di due personcine normali. Noi due persone anche giù in tutti, per volare l'altro. Non riusciamo a andare a confezza, eh? Sessore, lei ha detto che i conti sono in ordine, abbiamo lavorato tutta l'estate, eppure lei potrebbe essere sostituita. Cinque anni fa andò male, perché questa volta dovrebbe andare meglio? Voi portate proprio seccia. Ma non è che siete collaboratori di Report, della Sventurelli? Dal d'oro si può sconfiggere? Certo. Siate corretti, perché voi utilizzate le cose che... Mario spegne la delegata. Nomination. Prego.